ciao a tutti sono tomi dell'olio vi do il benvenuto come sempre nella mia regia di mix e vi do il benvenuto per questo nuovo mix in trick oggi vorrei parlare con voi di un argomento che in parte come tanti altri ovviamente sono già stati toccati nell'arco di dei numerosi mix in trick che ho già fatto e anche di video didattici completi di mix che ho fatto e che potete trovare online ma diciamo che oggi vorrei andare un pochettino più in profondità riavolgo il nastro qual è l'argomento l'argomento è sostanzialmente schiarire noi abbiamo l'esigenza in chiunque mix si sa che l'esigenza di schiarire è praticamente quasi onnipresente normalmente quasi tutte le tracce microfonate penso le voci le chitarre le batterie microfonate necessitano di diciamo i shelf di un boost sulle alte insomma il mix normalmente va a schiarire i suoni rispetto a quelli che sono i flat a quelle che sono le prese questo abbastanza normale perché rende tutto molto più bello più definito più a fuoco lo fa suonare più da disco e fin qui direi che siamo tutti d'accordo il problema qual è se noi decidiamo di lavorare in analogico oppure se noi decidiamo di lavorare in digitale ecco qui le cose cambiano moltissimo perché ogni qualvolta noi andiamo a dare un boost per esempio sulle alte con un equalizzatore digitale noi boostiamo dei decibel su una determinata porzione di frequenze col nostro plugin fine se noi invece andiamo a dare un boost con un equalizzatore analogico poi ovviamente voi mi direte dipende dalle Q ci sono i Q più puliti ci sono i Q più sporchi in senso buono quindi che danno più saturazione armonica mi vengono in mente tutti quelli di famiglia Nivi 1073 1081 ecco io in equalizzatori diciamo di stampo classico da channel strip da console classiche anni 70 80 io li vado a dare e anche precedenti io li vado a dare quando do non so prendo una frequenza i 5.000 agli 8.000 10.000 e do un boost in realtà non sto dando solo e semplicemente dei decibel ma sto dando decibel e saturazione armonica e compressione in realtà il blend di queste due cose quanto sto equalizzando in maniera pulita scusatemi e quanto invece sto comprimendo saturando quindi sto equalizzando in maniera colorata dipende da ovviamente qual è il segnale in ingresso che decido di mandare al mio equalizzatore la mia channel strip quindi in sostanza a seconda del gain staging che io tengo col mio EQ con la mia channel strip o con la mia console se mixo su banco io posso avere una maggiore o minore addizione di armoniche insomma possono modellare il colore del suono non solo attraverso il boost quindi l'equalizzazione il boost di decibel sulla determinata banda che ho scelto ma posso farlo anche attraverso la saturazione armonica in digitale questo non esiste dentro il classico plugin di equalizzazione io però posso ottenere un risultato molto simile e per certi versi secondo il mio punto di vista anche migliori ora vi spiegherò perché se vado a lavorare con dei saturatori nel senso io in digitale posso fare quello che voglio è semplicemente una questione di forma mentale lo devo fare pensando a una somma di processi differente da quello che può essere il tutto in uno del mio EQ analogico preferito quindi io non devo pensare sono su una console boosto gli 8 kHz di ACDB sono in digitale prendo la stessa frequenza la boosto nello stesso modo non suona uguale perché manca la componente di saturazione armonica se io però vado ad utilizzare dei plugin indifferenti io ve ne farò vedere uno nel tutorial di oggi posso ricreare innanzitutto posso ricreare un suono molto simile e seconda cosa che io penso sia fantastico per chi mixa io posso lavorare in digitale per quanto riguarda la saturazione posso fare per tutto ma per quanto riguarda la saturazione posso veramente lavorare in multimanda questa cosa è incredibile perché se io passo dentro un circuito analogico io sottopongo ad una colorazione tutto il mio suono prendo una voce e la mando dentro un canale di un banco prendo una chitarra e la mando dentro un canale una channel strip o un echo un outboard quello che volete voi questo outboard colora il mio suono poi che sia questo sia positivo negativo questo lo lascio a voi però fisicamente succede questo quindi io vado ad impartire una colorazione al mio suono e chi ha un po di esperienza di analog sa perfettamente che questo cosa comporta beh comporta il caspita sto facendo un processing analogico e sento che le medie diventano più belle ma magari le alte perdono un pochettino le sub frequenze le perdo ma magari la zona dei 100 150 hertz migliora c'è sempre un guadagno qualcosa ma perdo anche qualcosa se io invece lavoro e ve lo farò vedere tra pochissimo con un saturatore multibanda io posso in sostanza decidere di lasciare digitale quindi completamente clean quello che voglio che rimanga tale e posso decidere di saturare o addirittura distorcere quindi andare molto molto più pesante come addizione iniezione di armoniche rispetto all'analog solo ed esclusivamente in maniera circoscritta sulla porzione di frequenza che mi interessa questo ovviamente va a creare tutta una serie di sfumature di colori punto numero uno e di come dire controllo dinamico nel senso che i transienti posso preservarli perfettamente come posso distruggerli completamente se desidero farlo quindi sostanzialmente ho la possibilità di controllare e colorare sia dal punto di vista timbrico che dinamico in maniera pazzesca il mio suono ovviamente questo mix è molto comodo perché io in mix vado a rifinire controllare incastrare una cosa che è già stata prodotta quindi che ha già un imprinting sonoro il timbro è già stato deciso quindi io direi spostiamoci sul pro tools così vi faccio vedere la differenza fra queste due tecniche il senso e ovviamente l'ascolto perché andremo a fare delle comparative del perché non ce n'è una migliore di un'altra non è meglio l'analogico del digitale o viceversa non è meglio pulito o saturato o viceversa servono entrambi a seconda secondo me ovviamente servono entrambi a seconda del suono finito che volete ottenere quindi direi spostiamoci sul pro tools e proviamo andare in profondità insieme benissimo eccoci qua davanti al pro tools allora vi ho preparato ovviamente un po di cosine diverse vi spiego subito questa viola è un synth questa gialla è una voce questa traccia rossa è uno stereo un panoramico quindi overhead di batteria un panoramico di batteria quindi microfoni veri e stessa cosa questo questa una coppia di mandolini e anche questi sono microfonati dal vero così adesso andiamo a indagare un attimino ea verificare insieme come si comportano queste due opzioni quindi la saturazione e la shelf e insomma vediamo di capire un pochettino più in profondità pregi e difetti parto da questo faccio un piccolo loop parto del synth intanto vi faccio sentire la traccia nuda e cruda ok arrivo c'era rimasto un saturn di troppo acceso allora vi faccio vedere anzi prima di sentire vi ho preparato le due alternative allora abbiamo qui abbiamo un i shelf fatto con un plugin ma in questo caso con un pro q3 come vedete ma stavo pensando potete farlo col plugin che volete non fa una grossa differenza ovviamente usate un plugin di buona qualità e quello scontato non fa una grossa differenza nel senso che lavorando in digitale impartire un i shelf vuol dire andare semplicemente ed esclusivamente a bustare una certa quantità di decibel relative a una certa frequenza punto e basta non c'è un'addizione di armoniche se vogliamo invece aumentare il contenuto armonico lo dobbiamo fare con un plugin come questo in questo caso attenzione io ho deciso poi vi faccio vedere bene come regolarlo da zero però ho deciso di non fare nulla al suono fino a 4.000 vedete qui 4.343,7 ecc 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 quindi per tutta la parte di basse medio basse medio alte non ho fatto praticamente nulla solo dai 4.300 ecc 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 in poi ho deciso di saturare in maniera molto pesante sentite l'effetto parto dal flat poi facendo la q poi facendo saturatore la differenza è proprio chiara allora riporto dal flat ok scuro vado a scendere le q e dico oh che bello finalmente che è arrivata quella roba lì quindi si è schiarito quello sparkle quella brillantezza quella definizione che è tipica dei dischi finalmente c'è poi spengo le q accendo il saturatore dico ah no questa è quella dei dischi quell'altra è un surrogato una via di mezzo sentite ancora è più frizzante più avvolgente è come se avesse quasi un ambiente diverso più sassina più densità e questa cosa ovviamente vabbè adesso io chiaramente vi sto esprimendo la mia opinione a me piace molto di più il saturn dell'equalizzatore in questo caso chiaramente poi ciascuno di voi aveva la propria opinione personale però sentite e questa è la cosa più diciamo oggettiva della questione che mi interessa trattare con voi in questo tutorial sentite la differenza quanto sono diversi uno dall'altro sono veramente in entrambi i casi noi andiamo a scrivere la traccia ma con due timbriche ma non è solo una questione di timbrica è proprio una questione di pasta di suono diversa è una questione proprio anche dal punto di vista dinamico di preservare più o meno i transienti di andare a creare un pochettino più di sustain oppure no cambia proprio che è la nostra traccia acquista un colore un carattere diverso ma perché questo avviene come vi dicevo se io prendo un equalizzatore e vado a bustare in digitale io vado semplicemente ad aggiungere decibel in questa porzione di frequenza quello fa l'equalizzatore se io facessi lo stesso i shelf con un equalizzatore analogico magari induttori magari in il 1073 magari un qualcosa di molto colorato io andrei ad aggiungere contemporaneamente al boost di decibel anche una certa quantità di saturazione armonica poi quello ovviamente dipendente anche dal gain staging che utilizzate quando mixate da con quanta corrente andate dentro nel canale eccetera eccetera però in linea di massima io vado ad aggiungere della saturazione armonica la saturazione armonica ovviamente produce come avete sentito col saturn un risultato completamente diverso è come se andasse beh innanzitutto vado ad aggiungere delle armoniche quindi vado ad aggiungere dell'altro materiale che prima non c'era il suono e poi vado a creare una sorta di azione di compressione sui transienti quindi il suono diventa più denso nel senso proprio letterale del termine i picchi diminuiscono e quindi di conseguenza il suono acquista più sustain quindi è come se io in un'unica mossa no io prendo la mio channel strip vintage analogico boom down i shelf e in un'unica mossa vado a equalizzare gustando le frequenze a saturare quindi aumentare il contenuto armonico ea comprimere tuc con un'unica mossa e voi giustamente direte ma che è fegata in realtà sì e no perché come tutte le azioni molto invasive è figo quando ci sta è figo quando è bello in alcuni casi potrebbe essere eccessivo io sono sempre dell'idea che il digitale ha un grande vantaggio io posso passare dal completamente clean al completamente distorto in questo caso molto ricco di armoniche facciamo un piccolo focus visto che è la prima volta che lo utilizziamo vi apro io adesso qui ho utilizzato il fab filter saturn 1 potrei utilizzare anche il 2 anzi apro il 2 in questo caso sono la stessa cosa come funziona questo plugin vediamo insieme e parliamo bene di questa regolazione che per me poi diventa una sorta di preset è un po come un high shelf no un high shelf è un high shelf a seconda di dove lo metto decido quanti di bidare e che frequenza scegliere ma il concetto è lo stesso allora che cosa faccio vedete che se io mi avvicino alla parte alta dello schermo compare un più cliccate dove volete lo schermo si spacca a metà questo cosa vuol dire ok guardate vuol dire che state lavorando in multibanda io posso fare una determinata regolazione eccetera eccetera di qua e posso fare una determinata regolazione completamente diversa con degli acù diversi eccetera 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 di là allora noi che cosa facciamo innanzitutto sulla parte sinistra dello schermo quindi sulla parte che sta grave spegniamo non vogliamo fare nulla poi prendiamo la nostra barra verticale la spostiamo tutta a destra clicchiamo sulla parte di destra e mettiamo una quantità di drive superiore alla metà diciamo 60 65 una cosa del genere i ton andiamo a rimetterli in flat andiamo a scegliere questo algoritmo di heavy saturation quindi vi faccio sentire adesso spostando molto verso sinistra che così ci capiamo bene la quantità non di saturazione ma di distorsione brutale che io sto andando a ricercare sentite un po' io sto mandando il suono dentro quel robo qui ok è quasi come se fosse un amplificatore di chitarra virtuale cioè veramente un distorsore chiaramente voi mi direte ma inutilizzabile così certo inutilizzabile così ma la figata dove sta che se io vado con questa quantità esattamente quella che avete sentito a saturare solo le frequenze altissime succede questo accade questa sorta di high shelf ultra ricco di armoni che secondo me è bellissimo che mi dà esattamente quella cosa che io non posso ottenere con nessun equalizzatore digitale è chiaro che voi da un lato avete questo completamente clean dall'altro lato avete questo completamente crunch e ovviamente tutto quello che sta nel mezzo potreste fare anche un blend dei due potreste dare scusatemi qualche db di equalizzazione più un pizzico di saturazione insomma potete fare tutto quello che volete capite che noi non stiamo parlando di produzione non stiamo parlando di registrazione stiamo parlando di mix per me in mix è molto meglio avere questo che non avere una channel strip di niv 1073 o di chandler qua dentro il rack perché io in questo modo posso avere tutte le sfumature di colore che desidero dalla più più invasiva alla più trasparente e tutto ciò che ci sta nel mezzo quindi in questo modo io posso sempre trovare il modo giusto il colore giusto per schiarire le mie tracce adesso però proviamo a spostarci su qualche altro strumento perché poi ci sono delle considerazioni finali importanti da fare ecco adesso se io chiudesse il mio tutorial qui tutti penseremo ok questa è una figata più vicino all'analog funziona meglio di questo ok siamo a posto uso sempre questo no un attimo allora andiamo a fare un'analisi più approfondita io vi ricordo che anzi più che ricordarvi vi faccio vedere una cosa sto lavorando su uno strumento è una tastiera che vive sulle medie poche alte poche basse tutte medie vado a lavorare su un altro un'altra categoria di strumenti esattamente identica cioè che vive sulle medie che sono le chitarre in questo caso non sono chitarre acustiche sono mandolini cambia poco sentitelo anche qui forse ancora di più vince saturn ma perché stiamo parlando di uno strumento che è ancora così le chitarre sono così che sia un'acustica che sia un elettrica che siamo più chiara che siamo più scura ma chiunque lavora con l'audio sa che la risposta in frequenza di una chitarra o di una tastiera è quasi sempre sulle medie nel caso della chitarra sempre nel caso dei synth quasi sempre a meno che non si vada a prendere cose molto molto chiare se mi prendete che ne so l'aga pescino preset di omnisphere chiarissimo ma normalmente chitarre e tastiere vivono sulle medie quindi che cosa succede che l'azione del saturn è molto più convincente anche perché vi faccio una piccola osservazione innanzitutto come avrete sentito se io equalizzo una chitarra in digitale il suono risulta un po' troppo vuoto rispetto a come noi siamo abituati a sentire le chitarre e un po' troppo aggressivo e pungente sui transienti ma perché questo succede? succede perché noi le chitarre sono legate a un determinato periodo storico a un determinato genere musicale come tutti gli strumenti se io penso al cello, al violino, alla viola penso alla musica classica se io penso alla chitarra elettrica e acustica penso al rock, al rock and roll da Chuck Berry, Elvis, Beatles e Rolling Stone e tutto quello che è venuto dopo se io penso a un synth penso alla musica elettronica ecco queste cose che vi sto dicendo la classica rock l'elettronica appartengono a epoche storiche diverse hanno un'estetica completamente diversa io prendo un disco rock parliamo dei dischi rock classici sono tutti incentrati sulle medie poche basse poche alte io prendo un disco di elettronica esattamente l'opposto molto più brillante in alto una tonnellata di basso sotto quindi questo per dirvi che noi certi strumenti come per esempio le chitarre o come per esempio penso a un piano Rhodes, a un piano elettrico, a un Wurley, a un Hammond siamo abituati a sentirli riferiti a determinate band, a determinati genere, a determinati periodi storici, a determinate tecniche di registrazione io se penso al rock penso al full analog penso al registro, mix su banco completamente outboard analogico, zero plug in, nastro finito ovviamente quello soprattutto sulla chitarra o comunque in generale sugli strumenti che stanno sul mid range produce quella cremosità nel timbro che non è dovuta a una migliore qualità delle attrezzature audio che state utilizzando ma ha una peggiore qualità in termini di banda passante, di headroom, di risposta ai transienti però alla fine voi mi insegnate che il bello e brutto è tutto relativo anche il blues armonicamente è sbagliato ma in realtà noi siamo abituati ad ascoltarlo così è bellissimo così nessuno si sognerebbe di andare a fare analisi armoniche improponibili e giustificarlo tutto come se fossero dominanti secondari comunque al di là della digressione quello che voglio dirvi è che l'abitudine all'ascolto costituisce il nostro senso estetico quindi veniamo al punto se io lavoro su una chitarra e la vado a schiarire col saturn vado a un po' a distruggere, a sporcare i transienti anche a creare quella cremosità e quella perdita di definizione proprio sui transienti per l'appunto in alto che la rende più simile a come sono normalmente abituato a sentirla sentite che anche a livello di presenza è come se quando la busto con questo esce di più ed è normale perché io vado ad aggiungere distorsione quindi una grossa quantità di armoniche quindi io la prima considerazione che vi farei poi questo ovviamente il mio punto di vista poi lascio a voi è che sugli strumenti come chitarre e tastiere il fatto di schiarire con una distorsione multibanda secondo me rende il suono più vicino a quello che all'ideale di suono probabilmente che noi normalmente abbiamo quindi fondamentalmente è più godibile il suono così sembra sempre un po' vuotino però vi faccio un altro esempio andiamo a lavorare su un piccolo groove di batteria quindi un paio di panoramici e sentiamo cosa succede in questo caso per esempio se io vado a allora il saturn anche qui ormai è diventato una costante si sente di più tira fuori di più la parte alta della traccia rispetto all'equalizzatore però in questo caso per esempio a me non piace lo trovo troppo invasivo non mi piace come rende il timbro del chalesto non è non lo so innanzitutto sento diverso il rullante come quando metto un limiter tipo il cender tg1 sulla run di batteria in quel caso in accezione positiva però è come se il rullante cominciasse a suonare meno di fusto e più di corda ecco in questo caso mi dà un po' quell'idea lì che però lascio a voi poi la scelta però a me per esempio comincia a non piacere più anche perché prima noi andavamo a saturare delle frequenze molto alte non so nel caso delle chitarre andavamo a saturare dai 5000 in su quindi se considerate che le chitarre a 5000 air sono già ampiamente finite noi di fatto stavamo saturando è come se saturassimo fuori da quella che era la fondamentale del suono nel caso invece del chalesto che ovviamente sta molto più all'acuto rispetto a quello che potrebbe essere una chitarra elettrica acustica che sia lì la saturazione investe di più la pancia del suono e produce un timbro che secondo me è troppo invasivo non mi piace frizza troppo sento troppo prima non sentivo la distorsione sentivo che il suono si schiariva adesso sento più presente la distorsione e questo dipende proprio dal fatto che noi siamo sempre in quella zona lì attorno ai 5000 però lì 5000, 6000, 7000, 8000 lì c'è il Charlie non siamo oltre a livello di frequenze la fondamentale del suono di quello strumento ci siamo la prendiamo in pieno e quindi la distorsione si sente troppo invece con l'equalizzazione io vado a come dire schiarire però in maniera più conservativa del timbro e per esempio in questo caso mi piace di più quindi al di là di quello che piace a me poi voi deciderete quello che piace a voi ma la cosa importante secondo me è proprio sottolineare le differenze che questi due processi portano a seconda di quello che ovviamente è il suono di partenza quindi in determinate circostanze può essere più gradevole uno dell'altro in altre circostanze esattamente l'opposto ed infatti la morale di questo video è secondo me dovete conoscere e sapere utilizzare bene entrambe le tecniche per poter sempre scegliere vi faccio notare anche un'altra cosa sto facendo vedere e ovviamente è ovvio che sia così io ho bustato le alte in digitale come diciamo fino all'inizio di questo video l'equalizzazione digitale non ha nessuna influenza quindi non tampona, non ammorbidisce i transienti super trasparente i transienti della rullante sulle frequenze bustate mi salgono di circa 5 dB se io vado invece a saturare quel transiente lo vado a clippare completamente guardate il livello di partenza siamo a circa meno 26 meno 27 dove ho il puntatore del mouse di picco con rullante sto parlando sulle frequenze interessanti a noi non sulla fondamentale del rullante quindi siamo in questa zona qui più o meno che è i 4-5 mila hertz vado ad accendere il saturatore esattamente uguale forse c'è uno scarto di meno di un dB però è la stessa cosa quindi anche qui io non so dirvi se è giusto o sbagliato io potrei dirvi quello che è giusto o sbagliato per me però sappiate che se andate a lavorare su uno strumento percussivo con un saturatore voi andate a tappare i transienti se invece andate a lavorare con un equalizzatore digitale andate a enfatizzare i transienti nell'area in cui andate a bustare quindi questo aumenta la percussività voi vi volete più o meno transienti? quando ho mixato una batteria io personalmente ne voglio di più non c'è una regola però ecco tenete presente a seconda di quale delle due operazioni scegliete tenete presente quello che succede innanzitutto dal punto di vista sonoro quale vi piace di più ma tenete presente anche quello che accade dal punto di vista dinamico vi faccio l'ultimo esempio una voce e qui succede un comportamento ancora diverso vedete come non c'è un tool che funziona bene uno che funziona male ma è interessante come la determinata tecnica reagisce in relazione alla fonte io sentivo più presenza più bright più presente più denso la chitarra e la tastiera se le processavo col saturn rispetto all'equalizzatore qui sento la voce più brillante con l'equalizzatore rispetto al saturn e questa cosa è interessante il saturn lo sento un po più mediosetto in questo caso io probabilmente sceglierai l'equalizzatore quindi anche qui colori diversi sempre provare sempre verificare a seconda della traccia di partenza qual è quello che funziona meglio vi faccio notare un'altra cosa interessantissima guardiamo insieme le s adesso vado a isolare questo punto questa traccia conosco bene vado a isolare questo punto attenzione quando dice scelter ti visto il puntatore del mouse le s sono a meno 23 equalizzo prevedibilissimo no a busto le alte le s saliranno infatti salgono adesso la s che prima la meno 23 è a meno 17 quindi è salita di 6 db vediamo cosa succede con il saturn è lì 12 db in più diciamo uno e mezzo giusto per restare a metà quindi il il bright che ho aggiunto col saturn mi fa anche da di essere io ho schiarito ma facendo guadagnare le mie s un db db e mezzo con l'equalizzatore le mie s hanno guadagnato 6 db questo ovviamente da tenere in considerazione perché poi quando andrete a mixare se schiarite la voce con un saturatore potrebbe anche finire lì la questione voce a posto se schiarite la voce invece con un equalizzatore benissimo non c'è niente di male ma dopo andrà tamponata con un ds ok quindi questo da tenere in considerazione allora io mi fermo vi ho fatto sentire secondo me quattro casi abbastanza come dire esemplificativi di 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 tutta la questione e da qui in poi lascio a voi la sperimentazione però il senso lo ripeto ancora una volta è due tecniche importantissime per andare a schiarire da conoscere a fondo da utilizzare sempre entrambe provando a seconda dello strumento quale va quando va meglio una quando va meglio l'altra però mixando in digitale è difficile che voi possiate fare tutto solo con le q o tutto solo col saturatore poi dipende insieme alle tracce di partenza però in linea di massima è la somma delle due cose che porta al risultato finale io mi fermo qua vi auguro buon mix vi invito a sperimentare come sempre e ci vediamo il prossimo mese ciao a tutti